In molti nei commenti dei video precedenti vi siete accorti che registro con la Sony A7 III Beh, per chi non mi segue da un po' di tempo dovrebbe sapere che io l'ho acquistata a inizio settembre su Peugeot Quindi oggi voglio parlarvi velocemente della mia videofotobag Perché videofotobag? Beh, allora, innanzitutto, essendo io lavorando nel settore Naturalmente capita sempre molto spesso di dover organizzare le valigie per andare a fare un determinato tipo di progetto lavoro E all'interno di queste valigie, che ne sono sempre tante e differenti Mettiamo sempre le cose che più ci servono per quel determinato lavoro In questo caso, ad esempio, vi parlo della mia camera personale, quindi della mia borsa personale Ed io, dato che ho preso questa forma mentis di cambiare zaino o borsa in base alle esigenze Ho praticamente tre o quattro borse differenti Con due o tre kit di accessori e di macchine fotografiche che porto con me Anche perché sono un tipo a cui piace provare, non so se si era capito questa cosa Per esempio, ultimamente, sto utilizzando per andare in giro questa Questa, una comodissima borsa a spalla di Amazon Basics Che costa praticamente un niente rispetto alle concorrenti Perché sto usando questa? Perché quello che porto con me è davvero poca roba E infatti adesso vi mostro cosa mi porto normalmente con me Partiamo dal corpo macchina Ora, di base io utilizzo la 7.3 La 7.3 per realizzare contenuti video e per realizzare scatti fotografici Quindi come corpo principale, come corpo macchina principale, utilizzo questa In accoppiata porto sempre in borsa due microfoni Il Rode VideoMicro perché è comodo, veloce, plug and play, non ha bisogno di batterie E il VideoMic Pro perché ha una qualità del suono migliore E non solo, è migliore in tanti piccoli aspetti L'unico problema è che va a batterie Ed è la versione che ho io, va acceso e spento E a volte mi capita di lasciarlo acceso E quindi la batteria va via E non ho batterie di riserva Quindi ho sempre il backup per il microfono Inoltre, insieme porto sempre, sempre, sempre Il mio cavalletto, il mio affidato cavalletto Che è il Manfrotto Pixi Io ho due Pixi, sia il Pixi normale piccolino Che il Pixi Evo In questa borsa metto il Pixi Evo Perché il Pixi normale va da un'altra parte Adesso fra poco scoprirete dove Come lenti davanti alla mia Sony Per ora ho scelto di avere con me Il 24mm Samyang f2.8 Perché è piccolino Ed è davvero molto comodo Infatti è la stessa ottica con cui sto registrando in questo momento E poi ho con me il 24-70mm f4 di Sony Che probabilmente cambierò Ci sto pensando un attimo Ma probabilmente cambierò Anche se è una lente che a me piace davvero tantissimo A molti non piace A me piace quindi Come lenti io mi fermo qui Ho anche l'adattatore Canon Che a volte porto con me Quando devo portarmi una lente Canon Perché so che devo fare determinate cosucce Ma questo è il kit di base Aggiungo a questo un portaschede Dove metto sempre le mie schede all'interno Almeno due batterie E il mio carica batterie compatibile Di battaglia Quelli che si attaccano nella presa USB della patona E caricano lentissimamente le nostre batterie Poi cos'altro Poi porto la tracolla Una tracolla della Peak Design Non la uso spesso Ma quando ce n'è bisogno la uso Quindi non fa ingombro nella borsa Poi ho qualche altro piccolo accessorio simpatico Come ad esempio Questo che è un piccolo Prisma Comprato su Amazon Che serve a nulla Se non a utilizzarlo come effetto fisico Davanti alla lente Per fare i scatti fotografici Lo tengo lì in borsa Può sempre capitare Di fare la fotografia interessante o particolare Ma nulla di più E poi porto con me Il mio secondo kit Secondo kit Che mostro adesso Che è questo in pratica Porto in un altro zaino Perché quella è la borsa fotografica Quindi porto tutti questi accessori Fotografici in quella borsa Nel mio zaino personale Porto sempre con me Il Manfrotto Pixi Prima generazione Lo sto usando tantissimo E' super robusto Infatti penso che ne prenderò un altro Prima che escano fuori produzione E poi porto con me Una compatta G7X Mark II Compatta che mi può servire Non solo per realizzare I contenuti video Ma anche lavorativamente Quando vado a fare un sopralluogo Ad esempio Mi è più comodo Averla già in borsa Scatto fotografie O giro video E me le ritrovo Perché è piccolina E compatta Insieme La porto naturalmente In una borsetta Con un paio di batterie Un'originale E una compatibile E il caricabatterie E buttato nello zaino Quando torno a casa La sera poi Metto a caricare le batterie Insomma Questi sono Gli accessori che io porto con me Gli accessori fotografici Che io porto con me Di norma Questo video Lo vorrei fare ogni mese Perché a me piace cambiare E provare cose nuove Quindi È probabile che il mese prossimo Mi trovate con una Fuji Non è detto Però Scherzo Però Potrebbe capitare Di cambiare spesso Anche perché Sono abituato A cambiare spesso In ufficio Lavorare con tante macchine Differenti Mai fermarsi con una sola macchina Ed è anche abbastanza stimolante Insomma Spero che questo video Ragazzi vi sia piaciuto Se avete delle domande Potete scrivermi le qui nei commenti Non dimenticatevi Di iscrivervi al canale Se ancora non lo avete fatto Perché a gennaio Arriveranno Di video particolari Dove sono riuscito a stringere Delle collaborazioni Molto interessanti E avrete Delle bellissime sorprese Anche per voi Oltre che parleremo Di cose molto Interessanti Tra quelli che Ritorneranno i tutorial Quindi Seguitemi Su tutti gli altri social Anche special modo Instagram Cosa altro dirvi Ci vediamo Prossimamente Con un nuovo video Ciao Ciao